Ciao ragazzi, un saluto dell'Interista tedesco della Baviera, l'Inter sempre nel cuore, lo sapete che per me che vivo all'estero vedere una partita dell'Inter significa veramente tanti tanti sacrifici, tanti tanti ore di pullman, tanti soldi da spendere ma lo faccio, lo faccio perché la passione nera azzurra è infinita e un video precedente vi avevo raccontato di una cosa triste di una cosa che veramente mi sono incazzato tantissimo, che a causa di questo coso qui, a causa della mia cittadinanza tedesca non mi volevano far entrare allo stadio al Meazza per la partita Inter-Francoforte nonostante che io ci sarò a Milano veramente una assurdità incredibile, nonostante che io ho la tessera del tifoso, non mi volevano far entrare perché ho la cittadinanza tedesca vi avevo già raccontato di questo in un video precedente, ragazzi la storia è cambiata grazie a un fratello Nerazzurro che conoscete tutti, grazie a Luca Nerazzurro vi racconterò tutto quello che è successo ragazzi in questo video qui prima di tutto per quelli che non hanno visto il video precedente in un minuto provo di nuovo di raccontarvi cosa era successo allora ragazzi, prossima settimana, no questa settimana, venerdì parterò per Milano, 15 ore di pullman, passione infinita così possiamo vederci insieme alla partita Inter-Spal spero veramente anche di incontrare tantissimi di voi davanti allo stadio prima della partita ma non solo, io resto una settimana a Milano e avevo ovviamente programmato anche di andare allo stadio per la partita Inter-Francoforte cosa era successo però? ho provato di acquistare il biglietto come faccio sempre sul sito dell'Inter e c'era scritto le persone che hanno la cittadinanza o la residenza in Germania, Austria o Svizzera non possono acquistare il biglietto tramite l'Inter se lo vogliono fare, lo possono solo fare tramite il sito del Francoforte per stare nel settore ospite lo sapete, verranno 13,5 mila tifosi del Francoforte veramente un numero assurdo faranno veramente un grande grande casino vi ho fatto anche un video sulla tifoseria del Francoforte che sono delle teste di cazzo non è che mi stanno tanto simpatici comunque, è chiaro che io non voglio stare con loro nel settore ospite primo, secondo, anche lì i posti erano sold out già mi pare dopo 10 minuti ragazzi perché i tifosi del Francoforte sono pazzi quando giocano in Europa e volevano anche venire con 30 mila e perciò lì veramente non c'era niente da fare poi è chiaro, non voglio neanche stare con quelli lì nel settore ospite perciò io ovviamente voglio stare insieme con i miei fratelli Nerazzurri per tifare la mia amata Inter non potevo acquistare i biglietti perché c'era scritto lei c'è la cittadinanza tedesca non li può acquistare da un punto di vista come avevo già detto nel video lo posso anche capire perché è giusto vogliono separare le due tifoserie così i tedeschi e i tifosi dell'Inter non stanno insieme perché è una partita con tanta attenzione i tifosi del Francoforte sono abbastanza violenti ci hanno paura in tedesco si chiama Risikospir una partita un po' a rischio lo capisco però è una cazzata colossale che quando c'è una persona che ha la tessera del tifoso come c'ho io significa ogni anno sacrifici incredibili ogni anno mi faccio almeno 10 12 viaggi lunghissimi per andare a tifare l'Inter è una cosa assurda che non posso andare allo stadio io capisco la regola ok separiamo i tedeschi interisti però se c'hai la testa del tifoso è diverso allora è diverso io non posso essere un tifoso del Francoforte che fa casino se c'ho la testa del tifoso comunque non c'era niente da fare ho provato di tutto perfino ho telefonato lì all'Inter Store hanno detto non c'era niente da fare l'unica possibilità l'unica eccezione c'era scritto se un tedesco svizzero è in un Inter Club allora è diverso se sei in un Inter Club allora puoi andare a vedere la partita un'altra assurdità perché chiaro quando io vivo all'estero vivo in Germania non posso stare in un Inter Club in Italia normalmente uno non sta in un Inter Club in Italia anche se devo dire Inter Club sono ovviamente qualcosa di fantastico sono l'anima dell'Inter però ovviamente io non sto nell'Inter Club ciò sono stato tanto deluso tutto questo ve lo avevo già raccontato in un video e sono veramente grato vedo veramente che siamo una community con i miei iscritti di qualità ho ricevuto centinaia di messaggi specialmente su Instagram interista tedesco non è giusto non ti meriti questo con tutti i sacrifici che fai per l'Inter cazzo c'entra la tua cittadinanza c'hai la testa del tifoso come cazzo può essere che non ti vogliono far entrare allo stadio c'era tanta gente che mi ha scritto che mi ha fatto molto molto piacere però la situazione era quella sembrava veramente di non poter fare niente poi ieri ho ricevuto un messaggio su Instagram di Luca Nerazzurro del mio fratello Luca Nerazzurro ragazzi uno youtuber veramente simpaticissimo umile mi ricordo quando l'ho incontrato la prima volta quando sono andato allo stadio lì al Gate 8 dove c'è sempre lui e Biapri e mi pare avevo 900 iscritti qualcosa del genere e lui si è proprio visto una persona umile una persona veramente simpaticissima e mi conosceva aveva detto eh sì ho visto qualche video tuo e mi ha portato nella curva nord veramente simpaticissimo è stata una bellissima esperienza veramente un ragazzo d'oro ragazzi un ragazzo veramente d'oro che ieri mi ha scritto Giano non è giusto che non ti vogliono lasciare allo stadio troveremo una soluzione io ho detto eh non c'è niente da fare lui ho detto eh forse perché hai fatto il biglietto lì dalla Germania il sistema capisce che lo fai dalla Germania forse per questo motivo non ti hanno fatto entrare io ho detto no non è neanche questo il motivo perché in questo momento faccio un Erasmus sto in Francia anche qui da qui non funzionava ho provato di mettere il numero della testa del tifoso ma anche nella testa del tifoso c'è scritto che sono nato in Germania perciò non c'è niente da fare e Luca ha detto sai che ti dico io ti faccio entrare in un Inter Club ti faccio eh ti faccio tu adesso fai parte di un Inter Club e così ti facciamo entrare e così è successo io ho dato tutti i miei dati e dieci minuti dopo mi ha mandato il biglietto tramite un Inter Club che lo ringrazio veramente siete veramente fantastici e ci sarò ragazzi ci sarò per ti fare la nostra amata Inter perché faccio questo video questo video ovviamente lo faccio per ringraziare Luca che l'ha fatto così così non aveva nessun non è che ci guadagnava cosa no l'ha fatto proprio per fratellanza per fratellanza per mandare un segnale che siamo fratelli nerazzurri che ci aiutiamo che siamo fratelli del mondo prima di tutto perciò lo voglio veramente ringraziare con tutto il cuore primo punto secondo punto lo faccio anche questo video per mandare un segnale ragazzi che youtube può anche essere questo perché youtube spesso sono i dissing sono le guerre anche fra tifosi che tifano la stessa squadra lo sapete ragazzi per me tutti i youtubers interisti a prescindere sono fratelli nerazzurri non ho mai mai detto una parola brutta su un altro youtuber interista tranne uno che lasciamo stare che per me è veramente una vergogna perché ha sputtato sulla maglia nerazzurra ha augurato malattie la morte a tifosi di 13 14 anni che avevano un altro opinione di lui perciò una persona ovviamente nella mia opinione scandalosa che non entra in questa categoria ma tutti gli altri ragazzi tutti gli altri youtubers interisti per me a prescindere sono fratelli nerazzurri purtroppo ho notato ma non ho mai commentato niente non ho mai fatto nomi e non lo farò mai ho notato che alcuni di loro si sentono superiori buttano sempre merda sugli altri dicono sempre io sono l'unico competente sono l'unico che aprisce qualcosa capisco più di voi e tutto questo a me non piace perché per me nella mia opinione siamo tutti fratelli nerazzurri e dobbiamo tifare insieme la nostra intra poi è chiaro alcuni sono più intelligenti alcuni sono meno intelligenti ma perché lo devi sempre dire perché devi sempre dimostrare che sei superiore agli altri perché dimostralo con i tuoi video con i tuoi fatti e se lo dici sempre se lo devi sempre ripetere che sei più forte degli altri che meriti più degli altri nella mia opinione significa ovviamente che sei molto insicuro sei molto insicuro dentro di te comunque faccio questo video per dimostrarvi che youtube italia youtube nerazzurra può essere tutta un'altra cosa e questo lo dimostra luca nerazzurro grande ragazzo umile non gli fregano un cazzo gli iscritti che c'ha più iscritti che c'ha meno iscritti una persona umile che ha detto siamo fratelli nerazzurro e perciò giano ti faccio entrare allo stadio perciò ho fatto questo video per ringraziarlo e per veramente dimostrarvi che youtube può essere tutta un'altra cosa ragazzi seguitemi su instagram così restiamo sempre in contatto anche adesso per le partite inter spalle inter francoforte su instagram nelle stories poi vi dirò quando ci incontriamo dove ci incontriamo così sapete sempre tutto in generale ragazzi lo sapete che luca nerazzurro e piapri prima delle partite stanno sempre al gate 8 e ovviamente anche io verrò lì e mi farebbe veramente tanto piacere incontrare qualcuno di voi ma non perché io sono una persona speciale un youtuber c'era una persona così mi pare per scherzo ha detto ah intervista tedesco fai anche gli autografi no mi sono messo a ridere ho detto no io non sono un nessuno io sono uno di voi questo è l'intervista tedesco condividere la passione per il calcio con tutti quelli che amano il calcio e per l'inter voi siete i miei fratelli nerazzurri perciò se dico incontriamoci al gate 8 non è che perché io sono non so che cosa no è per stare insieme ci facciamo due chiacchiere insieme ci facciamo una birra insieme mangiamo quella salsiccia lì che c'è allo stadio quello è il bello del calcio quello è il bello del calcio perciò spero ovviamente di incontrare alcuni di voi ma seguitemi su instagram così vedete sempre tutto di me le novità tutto ragazzi allora ci vediamo in un prossimo video luca nerazzurro di voglia un mondo di bene ci vediamo ci vediamo per la partita inter spalla anche per la partita contro il francoforte sempre e solo forza inter ragazzi ciao ciao